Ehi, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi sono su Candy Crush Saka, dopo un bel po' di tempo, devo dire Io oggi sono comunque proprio per completare questo livello fasto fasto Perché comunque, cioè, sì, ho fatto un bel po' di serie di vittorie Però il problema è il fatto che non ho idee per che video fare Però, visto che non mi vengono idee e registro questi video tardi In cui li dovrei far uscire un po' prima Perché io il pomeriggio, voi vi domanderete perché non lo fai nel pomeriggio Così o meno nella serata non avrei problemi Il problema è che devo studiare E quello è il problema Perciò E quindi non so che idee fare Quindi nel pomeriggio cerco di avere qualche idea Così non avrò problema Nel registrare Il problema è che quando mi vengono idee Tipo devo fare su Brustar, su Rango Che ci metto troppo tempo Quello è il problema Vabbè raga, dai facciamoci Ve l'ho fatto un altro aggiuntivo Così almeno non durò troppo poco il video Ho messo questa qua la ruota a cocco Che comunque mi piace in un botto E poi ci serve Non è capito Ah, dovevo far scendere Ok, dovevo far scendere queste qua Ok, dove ne manca uno Per farlo scendere Ok Vinta raga È zero Secondo me devo iniziare a fare Quando non c'ho tempo Devo fare video fast Secondo me devo fare meglio Qua che faccio subito Perché raga Ovviamente dipende Perché in questo caso Visto che sto compagando A livello di fill Mi danno E inizio sempre col vantaggio Di booster Allora ok Però quando non ce li ho Là è il problema Ah ma qua c'è il sapore generatore Del Come si chiama Buono Allora che devo fare Viola E questi qua I muretti Ok Ovviamente si muovono Ok Però in 5 mosse raga Non so Non voglio Cercare di usare video O roba del genere Che comunque Allora che viola Nemmeno non basta C'è raga E vabbè raga Ci conviene Fare Guardare la pubblicità Ok raga Comunitato Dobbiamo cercare Di fare tutto Raga Perché Se no È una tragedia Ok Perfetto Ce l'abbiamo fatta Ok raga Diciamo che da Un livello Ne abbiamo fatti 3 Così almeno Non era Troppo poco E niente raga Spero che questo video Vi sia piaciuto Lasciate un like Noi ci vediamo Domani In un prossimo video Bene raga Noi ci vediamo